Invece torna alle 22 e 20 per l'edizione della notte. Grazie, ci vediamo più tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E chiedere un finanziamento è semplice. Basta chiamare al numero verde e fissare un appuntamento con un consulente nei loro uffici. Eh già, io mica faccio l'attore. Sono un pensionato IMS. Benissimo. Puoi ottenere un prestito con gestione del quinto della pensione in convenzione IMS. E con la gestione telematica approvata dall'IMS, l'iter della pratica, è più veloce. E se hai altri impegni potresti anche avere la liquidità che ti occorre per estinguerli e pagare un'unica rata. Beh, però mo ti devo lasciare che ho fatto tardi. Offerta del mese. Puoi ottenere 25.000 euro pagando una rata di 252 euro per 120 mesi. TAN 3,90, TAEG 3,99. Il prestito a zero spese e zero sorprese. Faccende di casa interminabili? Meglio lavorare in coppia. Validoso. Il panno super assorbente, super resistente per lui e per lei. Lava via i luoghi comuni. Validoso. Semplicemente prodigioso. La vita è semplice insieme a te e alle sue irresistibili offerte. Questa settimana, fino al primo novembre, da se. Olio di semi di girasole, un litro, a 1,99 euro. Nutella a 600 grammi, a 3,99 euro. E su 30 euro di spesa, se aggiungi un euro, ricevi un pacco di 50 cialde caffè motta. Scopri il mondo e te su www.etesupermercati.it Benvenuti da Cirella Arredamenti. Questa volta sono da solo a presentarvi questo straordinario mobilificio. Una chiamata. Chi sarà male? Eregno! Ciao! Non potevo lasciarti da solo. Mi trovo nella sede di viardine di Cirella Arredamenti, dove c'è una nuova esposizione con tante belle soluzioni di qualità. Brava, Lia! Ma anche quindi, a Charlie Chaplin c'è un'esposizione straordinaria. E hai ragione, ma adesso parliamo delle offerte del momento. Sì, per chi acquista una cucina nuova con 4 elettrodomestici, due sono in omaggio. E se acquistate nella nuova esposizione una cucina con 4 elettrodomestici, regalo una Smart TV da 50 pollici. E possibilità di finanziamento senza busta paga, fino a 5.000 euro. E come sempre, da Cirella Arredamenti, il trasporto e montaggio in omaggio. Cirella Arredamenti! Venite in una delle due nostre sedi. E noi ci troverete qui! Cirella Arredamenti! GED Auto Da oltre 15 anni nel settore automobilistico per la vendita di autoveicoli multimarche, utilitarie, berline, station wagon e monovolume. GED Auto assiste i suoi clienti in tutte le fasi di acquisto, pre e post vendita e di manutenzione. Da oggi è anche RCA Auto e Moto e noleggio a lungo termine. Ci trovi a Casagiove, uscita autostrada Caserta Nord. www.gedautosrl.it Sono stata tante volte in Moldavia, mi hanno fatto i denti, ho pagato un sacco di soldi. Li ho votati all'Odonto Salute. Mi trovo benissimo e guardate che sorriso bello ce l'ho! Odonto Salute Napoli, via Michele Pietravalle 12, nei pressi della zona ospedaliera.